Allora, siamo qui con Prochilo, migliore in campo della partita Baby Gang contro San Margaret, finita? 4-1 4-1, Prochilo autore, io sono rimasto a due gol, in realtà doppietta di Prochilo. Allora, Prochilo, secondo te, oltre i gol, perché migliore in campo? Eh, sicuramente per... Alta la voce, Prochilo, fatti sentire. Sicuramente per la velocità. Per la velocità? Per i triplinch. I triplinch? I triplinch. Abate, sin vede. Ma comunque il merito, magari, a di Silvio è... E che lato, come si chiama? Mett? Mett, quindi, l'arra, la voce che... Accogli, l'arruzione, vabbè, vabbè. E senti, sui vostri obiettivi proprio in campionato? Vabbè, ormai penso quasi sicuramente play-off, però cercheremo sempre di migliorare. Di andare avanti. E senti, ma che mi puoi dire sul fatto che non c'è più Alessandro Esposito? Eh, aia. Eh? Eh, vabbè, questa l'ho dovuto parlare col Presidente. Sì, ho capito. Vabbè, dai, fammi un saluto a... o una dedica a qualcuno? No, una dedica va a tutti quanti noi, che dopo un inizio schifoso da dire, finalmente ci siamo ripresi. Ho capito, va bene. Allora, ciao proprio. Grazie, ciao.